Seconda sconfitta consecutiva per il Varese, che paga il poco cinismo e l'eccessivo nervosismo. Il Chieri vince 2-1, una partita che si chiude in 9 contro 9. Pronti via, la giornata nera del Varese si apre con il palo di Banfi. Il Chieri passa la prima occasione, svista di Valdaro, miracolo di Cazzano, ma tappin vincente di Marianeschi. Pur Lampareggia grazie a una deviazione, ma il vantaggio di Cottarelli viene annullato per fuorigioco alquanto dubbio. Il Varese non graffia più e il Chieri rimette la testa avanti con il gran gol di Zenuni. Gli animi si scaldano, il fallo di Palazzolo inaugura un rissone che porta a 5 espulsioni. Due per parte, con il preparatore di portieri biancorossi Paciarotti, che si unisce a Palazzolo e Cottarelli. In 9 contro 9, le speranze del Varese si infrangono sul palo di Molinari e il tiro alto da due passi distanti.